Il mio figlio è il mio figlio dell'elite genitori. Grazie, professor De Luca. Lei ha fatto veramente un miracolo. Miracoli non esistono. Sono stato solo bravo. Il mio figlio è il mio figlio. Il mio figlio è il mio figlio. Ma... Io pensavo di lasciare medicina. Ho deciso di entrare in seminario e diventare sacerdote. No! Il mio figlio è il mio figlio. Ma è lui per dimostrare che questo prego è una scherzo. Io sono disperato. Sono disoccupato. Gravissimi problemi familiari. Senti papatti, volevo presentare un mio amico. Il sottoscritto. La gente la salva sul serio. E sono loro a ringraziare me tutti i giorni. È chiaro? Hai letto le lettere di San Paolo? No, perché magari ti pensavi di essere Dio. Invece mi dispiace, ti sei sbagliato. Senti papatti, non ti capita mai di sentirti solo. Mai. Perché io non sono mai solo. E neanche te. Perché c'è... Tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. C'hai presente quei lavori che sto facendo la chiesetta? C'ho bisogno di un volontario che mi dia una mano. Uno! Due! Due! Ah! Kamisama no obosimeshi. Prova a basculare anche un po' il bacino. Cosa vuoi basculare? Ah! Il giung al pieno. Grazie a tutti